Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione del Tg10, l'apertura del telegiornale dedicata alla presentazione da parte del comune di Gela di Umbando per il recupero delle strade rurali. 54 milioni di euro destinati alla viabilità delle campagne per favorire la crescita delle imprese agricole. Sentiamo. È stato presentato il bando per il recupero delle strade rurali in scadenza il prossimo 20 febbraio nell'ambito del piano di sviluppo rurale 2014-2020. All'incontro erano presenti il sindaco Domenico Messinese, il primo cittadino di Niscemi Francesco Larosa, rappresentanti della Confederazione Italiana Agricoltori e dell'Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori. Presenti anche gli assessori allo sviluppo economico e ai lavori pubblici del comune di Gela, Simone Siciliano e Flavio Di Francesco. La misura 4.3 del PSR Sicilia finanzia gli interventi infrastrutturali per le nuove realizzazioni e per la manutenzione e la riqualificazione delle strade rurali con 54 milioni di euro, destinati alle vie vicinali, trazzerali, interpoderali per facilitare la crescita delle imprese agricole. Dopo i primi monitoraggi e gli interventi con stanziamenti sull'ultimo bilancio di previsione, grazie ad un emendamento firmato dal sindaco Messinesi, il comune di Gela presenterà un progetto a questo bando europeo in collaborazione con le associazioni di categoria e gli imprenditori agricoli del territorio. Oltre agli enti pubblici possono accedere benefici gli agricoltori associati chiedendo un aiuto in conto capitale. Tra gli interventi finanziabili figurano la costruzione, acquisizione e sistemazione di terreni, lavori di scavi e riporti e di stabilizzazione delle terre per la realizzazione del corpo stradale, lavori relativi alla costruzione e ristrutturazione delle sovrastrutture stradali, opere di difese di presidio, drenaggi, messe in sicurezza, finitura e ogni altra opera necessaria per ottenere la piena e completa funzionalità della strada da realizzare o ristrutturare. L'opportunità che viene dall'Europa è che si affianca alle attività che già questa amministrazione ha avviato. Vorrei ricordare che proprio a fine anno un emendamento fatto proprio da me, proprio dal sindaco, ha inserito delle risorse per poter consentire la manutenzione delle strade rurali nella piana di Gela. Un primo investimento per dare una risposta, però accogliamo immediatamente l'opportunità che ci viene data all'Europa con investimenti più consistenti che insieme al comune di Niscemi ci siamo immediatamente attivati di poter rendere operativa il nostro territorio. Questo però ci vuole la collaborazione di tutti coloro che vivono nel mondo rurale, che hanno attività sia agricole che sia di ospitalità. Questo è un punto di partenza, io lo considero tale. Ci sono 54 milioni all'interno del PSR. Io sono convinto che una grossa fetta di questi finanziamenti, Gela e Niscemi, con il supporto di altri comuni vicini, penso che riusciranno a portarlo in porto. Se noi parliamo di quantità, 54 milioni sembrano tanti, ma in verità sono pochissimi. Però noi faremo di tutto affinché una buona parte rimanga in questo territorio. Chiediamo però l'intervento dei nostri produttori, delle nostre aziende, delle nostre associazioni, affinché si preparano e diano la possibilità di intervenire anche alle amministrazioni, perché senza il loro sostegno noi non possiamo intervenire. Siamo alla cronaca. Un arresto e tre denunce nel corso dei controlli del commissariato di polizia di Gela, coordinato da Francesco Marino. In Manetta, Alessandro Pardo, 35 anni, arrestato in ottemperanza all'ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Caltanissetta. Dovrà scontare sei mesi di carcere per porto abusivo di arma da sparo. Denunciati una ragazza gelese di 26 anni per minaccia, un quarantenne per lesioni colpose, un uomo di 42 anni per minacce. 24 invece le contravvenzioni elevate. Ennesimo incendio di auto a Gela. Poco dopo l'una di stanotte, un rogo ha danneggiato una Mercedes classe A in via Picasso a Cantina Sociale. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri della radiomobile. La vettura appartiene ad una donna. Non si esclude l'ipotesi dell'incendio doloso. Sono ingenti i danni arrecati dall'incendio che è divampato nelle prime ore del mattino nella sede del CONI. Il cortocircuito è partito da un condizionatore. Le fiamme hanno avuto origine dal climatizzatore. Si sono propagate anche a causa del materiale cartaceo presente sulla scrivania. Ingenti i danni alla stanza coinvolta, ai computer e ai muri al tetto. A spegnere l'incendio i vigili del fuoco che hanno accertato comunque l'origine accidentale del fatto. Siamo alla politica. Una mozione per arginare la crisi del comparto commerciale del centro storico. Sentiamo di cosa si tratta in questo servizio. Sarà discussa in Consiglio Comunale a Gela la mozione introduzione di agevolazioni fiscali in favore di proprietari e conduttori per gli immobili del centro storico che vengono locati con canoni ridotti concordati presentata dal gruppo consigliare del Partito Democratico. Nel documento si rileva come il tessuto commerciale produttivo del centro storico di Gela stia registrando una serie di sempre più gravi problematiche e al fine di arginarne le conseguenze si chiede in prima istanza all'amministrazione comunale di porre in essere tutte quelle azioni di agevolazioni fiscali in materia di tributi locali che riguardano gli immobili compresi all'interno delle mura federiciane. Si tratta di una mozione che nasce da un confronto diretto con i commercianti del centro storico perché i commercianti del centro storico più di qualsiasi altro operatore economico di questa città in questo momento sta soffrendo sulle proprie spalle, sulle proprie casse, sulle proprie economie quella che è tutta la conseguenza di una crisi economica che attanaglia l'intera città. Quindi noi riteniamo che il tessuto commerciale del centro storico sia un tessuto fondamentale su cui noi dobbiamo prestare la massima attenzione. È veramente allarmante ed è galoppante la crisi che registriamo tra tutte le vie del centro cittadino che sono all'interno delle mura federiciane. È veramente triste assistere a come si stia spopolando. Sentiamo ancora i proclami di questa amministrazione di trasformare il centro in un salotto ma come lo trasformiamo in un salotto se il centro cittadino si sta svuotando sempre di più? È allarmante ascoltare le parole di chi sostiene che il centro storico da un lato si sostiene che il Gela non è più disposta a spendere quindi a investire i propri soldi nel commercio e quindi è disposta solo ad acquisti low cost e dall'altro si afferma che il centro cittadino deve in qualche modo riempirsi solo di negozi di elitto, negozi di nicchia. Delle due l'una. È una mozione secondo me che sarà ben capita e valutata dal Consiglio Comunale la spiegheremo nei dettagli e quindi riteniamo che avremo il consenso favorevole del Consiglio Comunale. È chiaro che da qui alla discussione della mozione cercheremo di attivare dei confronti anche con gli operatori del settore ma uno dei punti fondanti e qualificanti della mozione è quello di impegnare l'amministrazione comunale a mettere su ad attivare un tavolo di concertazione con gli operatori del settore gli artigiani commercianti, gli ordini professionali, anche proprietari degli immobili perché riteniamo che il compito della politica è quello di fermare in questo momento un declino lendo ma inesorabile del centro storico che per noi, per il Partito Democratico, penso che per tutta la città debba essere il cuore pulsante di ogni comunità e quindi riteniamo che nei prossimi giorni ci siano le condizioni affinché questa mozione venga accolta favorevolmente. Una precisazione, oggi parliamo del centro storico perché si sta soffrendo tanto ma il tavolo di concertazione domani affronterà le problematiche dell'attività commerciale di via Venezia e poi quelle di via Giannale Cascino e quelle di via Crispio. Su indicazione del sindaco di Gela Domenico Messinese il segretario generale del comune Pietro Amorosia ha inviato una direttiva di servizio ai vari settori. Dalla prossima settimana saranno incrementati gli orari di apertura al pubblico degli sportelli comunali. I front office seguiranno la fascia oraria diurna che va dalle 8.30 alle 13.00 Finora l'orario osservato terminava alle 11.30. Confermati invece gli orari pomeridiani che vengono ogni martedì e giovedì dalle 16 alle 17.30. In questo modo, ha spiegato il sindaco messinese, potenziamo i servizi al pubblico offrendo all'utenza maggiori possibilità di dialogo con la pubblica amministrazione. E' stata celebrata ieri la notte dei licei particolari in questo servizio. Si è svolta ieri anche a Gela la notte dei licei classici presso l'istituto scolastico Eschilo. Una serata intensa e di grande impegno per studenti e docenti che ha coinvolto anche i genitori e gli alunni delle terze medie già a partire dal pomeriggio. Successivamente si sono tenuti momenti musicali, teatrali e di intrattenimento a cura dei liceali. Dalle 21 a mezzanotte poi musica da discoteca per tutti i presenti. La notte dei licei è una iniziativa avviata da un liceo di classico di Acireale, dal professore Rocco Schembra, docente di latino e greco, che ha coinvolto quasi 400 licei in tutta Italia per significare sostanzialmente una cosa. Il liceo classico è la scuola dove si studia in maniera più approfondita, ma allo stesso tempo il liceo classico è una fonte di risorse, di artisti, di persone in grado di coniugare. L'impegno assiduo di 5-6 ore al giorno nello studio è anche la capacità di suonare, cantare, ballare, recitare e così via. L'accusa che si rivolge al liceo classico è che è una scuola delle lingue morte. Comunque noi con la notte dei licei vogliamo dimostrare che i licei classici sono vivi e le lingue morte servono per ravvivare ulteriormente l'esistenza della cultura. Io rifarei l'esperienza del liceo classico più e più volte, perché comunque questa scuola mi ha insegnato non solo il metodo di studio, ma anche a vivere. Quindi potrei dire che le esperienze che ho vissuto all'interno di queste mura, e all'interno della mia aula, le persone che ho conosciuto, oltre ai docenti, il dirigente, ma soprattutto anche i miei compagni di scuola e di vita, sono delle persone fondamentali per la mia crescita. Rimpiangerò di questo liceo intanto i docenti che sono stati sempre disponibili, amorevoli, un po' dei genitori o comunque dei parenti per noi e ancora di più i miei compagni di classe. Il classico è intramontabile poiché fornisce una preparazione dal punto di vista umanistico innanzitutto e poi io non mi sento affatto impreparato anche dal punto di vista scientifico, riguardo le materie che possono essere matematica, scienze, eccetera. Quindi a mio parere il classico è il liceo che fornisce la preparazione più completa di tutti gli istituti superiori. Sono aperte le iscrizioni al primo corso SABEX-REC dell'anno 2017, valido per il conseguimento della licenza alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande. Il corso autorizzato dall'assessorato regionale alle attività produttive sarà avviato entro il mese di gennaio e si svolgerà nella sede della Confcommercio Ascom di Gela in via di Cicerone al numero 104. Tutti gli interessati dovranno effettuare l'iscrizione al corso e entrano oltre il 23 gennaio 2017 presso la segreteria della Confcommercio Ascom Gela da lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Per informazioni bisognerà chiamare il numero 0933 93 97 18. Dopo la pausa natalizia e di fine anno torna in edicola il Corriere di Gela, settimanale indipendente di attualità politica, cultura e sport, a diffusione comprensoriale. Questi gli argomenti più importanti del numero. Alberto Ferro, l'orgoglio di Gela nel mondo. Intervista di Zeira Placenti al giovane pianista, tornato da poco dalla sua ultima esibizione a Venezia. Per Alberto Ferro un 2017 ricco di impegni con concerti programmati in tutta Europa. In prima pagina il rituale editoriale del direttore del giornale che con questo numero inizia il suo trentatresimo anno di pubblicazioni. Ma c'è anche la rubrica politicamente scorretto di Giulio Cordaro e il richiamo di un'ampia intervista di Lucrezia Ferro a Francesco Larosa, sindaco di Niscemi che parla naturalmente anche di Gela e delle problematiche che accomunano le due città. Nello Lombardo intervista l'ex assessore Giovanna Cassara che parla del grigiore politico che regna in città. All'interno le pagine dell'attualità e della cultura e infine lo sport con le finestre sulle due maggiori squadre di calcio cittadine, Gela e Terranova. Bene, tutto per la prima parte del nostro telegiornale, la linea alla regia per la pubblicità, torniamo tra poco. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. Siate lieti nella speranza, forti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera. E il messaggio di quest'anno per i festeggiamenti in onore di San Sebastiano che si terranno nella omonima parrocchia di Gela retta da Don Filippo Salerno. A partire da lunedì 16 gennaio prossimo alle ore 18 con una celebrazione eucaristica in ricordo di Don Franco Cavallo. Le celebrazioni proseguiranno fino alla festa del Santo prevista per il 20 gennaio prossimo. Le aree interne della Sicilia al centro dell'attenzione per una strategia di rilancio delle zone rurali e delle eredità culturali del territorio. E' questo l'obiettivo dell'IRPAIS, istituto di ricerca e promozione delle aree interne della Sicilia, organizzatori insieme al comune di Montedoro e Stargeo di un importante evento che si è svolto presso l'osservatorio astronomico di Montedoro, con un incontro dal titolo Perché andare su Marte? Successi e fallimenti in 50 anni di esplorazione spaziale, che ha visto relatore d'eccezione per la prima volta in Sicilia il professore John Robert Brucato, astronomo e astrobiologo dell'INAF, osservatorio astrofisico di Arcetri e docente dell'Università di Firenze. Brucato è coinvolto in molte delle principali missioni spaziali internazionali alla ricerca della vita del sistema solare, a cominciare da ExoMars ed è componente dei board dell'Agenzia Spaziale Italiana, ASI, Europea, ESA e della NASA. Nella gremita sala congressi dell'osservatorio, dopo i saluti del sindaco di Montedoro Federico Messana, del direttore dell'osservatorio Marcello Frangiamone, del presidente dell'IRPAIS Fabiola Safonte, il professore Brucato ha affascinato i numerosi partecipanti che hanno raggiunto Montedoro da diverse località della Sicilia affrontando numerosi temi. Dall'evoluzione e abitabilità del sistema solare all'origine della vita, dalla storia delle missioni spaziali alle principali figure di riferimento, dando anche anticipazioni sui futuri scenari della ricerca e rispondendo alle numerose domande poste dal pubblico competente e motivato. Grande soddisfazione per gli organizzatori dell'evento che, visto l'enorme interesse riscontrate e il successo in termini di pubblico presente, sono intenzionati a proseguire il ciclo di incontri denominato Paesaggi, Cultura e Identità, già avviato dall'IRPAIS con l'iniziativa di presentazione pubblica organizzata in novembre dedicata al turismo sostenibile, al cui interno è stata promossa la manifestazione appena conclusa. Il successo di pubblico, ha detto il professore Brucato, dimostra il grande interesse verso temi che da sempre hanno catturato l'attenzione dell'uomo, come la ricerca di segni di vita nello spazio. È stata una grande emozione vedere una sala gremita e attenta di adulti e bambini, ma ancora di più poter rispondere alle innumerevoli domande, tutte precise e appropriate. Iniziative di questo tipo sono lodevoli anche perché possono fungere da stimolo alle nuove generazioni. Tra i bambini presenti in sala ci potrebbe essere anche il futuro astronauta, che un giorno andrà su Marte, chissà. È stato un piacere e un vero onore portare i recenti risultati dell'esplorazione spaziale su Marte e della ricerca astrobiologica nella nostra realtà. Siamo fermamente intenzionati a rafforzare l'impegno scientifico dell'osservatorio con ulteriori collaborazioni con enti e istituti astrofisici, dice il direttore dell'osservatore Fran Giamone. Iniziative come questa, ha aggiunto il sindaco Messana, dimostrano come anche nei piccoli comuni possano realizzarsi eventi di spessore culturale e scientifico in grado di ridare centralità anche a territori come i nostri. Come istituto, conclude la presidente IRPAIS Fabiola Safonte, ci faremo interpreti della necessità dei territori e delle aree interne di tornare protagonisti della vita economica, sociale e culturale della Sicilia attraverso ricerche e iniziative a livello scientifico e divulgativo per favorire la partecipazione delle comunità locali in direzione di uno sviluppo sostenibile. È prevista per venerdì 20 gennaio alle 17 nella sala conferenza del liceo scientifico Elio Vittorini di Gela la presentazione del libro di Sebastiano Tusa, Primo Mediterraneo. L'iniziativa è della Libereria Mondadori in collaborazione con l'istituto scolastico diretto da Angela Tuccio. dialogherà con l'autore Lella Oresti, introdurrà e modererà i lavori, l'inaurlando previsto l'intervento del pittore Giovanni Iudice. Il Re Leone Alice nel Paese delle Meraviglie, Migni e Topolino, sono solo alcuni dei personaggi dei cartoni animati, amati dai più piccoli a cui si sono ispirati, gli alunni del liceo artistico Juvara Manzoni, che hanno realizzato sei pannelli, collocati nel corridoio e nella sala giochi del reparto di pediatria dell'ospedale Sant'Elia, su invito del direttore generale dell'ASP, Carmelo Iacono. Sviluppare la fantasia dei bambini e migliorare la qualità della permanenza in corsia, l'obiettivo dell'iniziativa, che ha preso il via già lo scorso anno, con la realizzazione di alcuni murales nelle stanze destinate alla degenza, ma anche di quelle del personale medico. Le classi che hanno partecipato a questa attività della realizzazione dei murales e anche dei pannelli decorativi sono state la terza B attuale di quest'anno e la quinta B che è uscita l'anno scorso. La quinta B ha realizzato i murales nelle varie stanze dove appunto i bambini vengono ricoverati, mentre i pannelli decorativi, che sono in tutto 6, sono stati realizzati qui a scuola dagli alunni della classe terza B. Tutto questo ha cercato appunto e ha reso più armonico l'ambiente. I bambini sicuramente in quel momento magari di sofferenza, osservando e quindi guardando questi murales o anche i pannelli, renderà sicuramente a loro quella settimana, quei giorni in ospedale più piacevole. Un incontro tra la realtà scolastica e ospedaliera che servirà a rendere meno traumatico il soggiorno dei piccoli degenti all'ospedale. Un reparto, quello di pediatria, che con il trasferimento nella nuova ala ha migliorato le condizioni alberghiere, rendendo più sereno l'ambiente ai bambini, ma anche ai genitori che li accudiscono. L'assistenza che deve essere rogata ai pazienti non è soltanto un'assistenza che riguarda la parte tecnica, cioè il paziente non è una malattia. Il paziente è un soggetto che ha tutte le sue necessità accessorie che fanno parte proprio della dignità del soggetto. Questo avviene per i pazienti anziani, per i pazienti normali, ma a maggior ragione avviene per i bambini. Cioè un bambino che ha un problema di salute e va in ospedale certamente ha un trauma anche dal punto di vista psicologico. E quindi andare a trovare un ambiente nell'ospedale che gli ricordi qualcosa di allegro, gli ricordi la sua stanzetta, gli ricordi i suoi cartoni animati quando li vede in televisione. Sicuramente lo agevola nel rapporto con la struttura e quindi con la cura che viene attivata. In questo è importante anche l'altro aspetto, l'aspetto della società civile che contribuisce all'assistenza che noi diamo ai nostri pazienti, la partecipazione della scuola. Guardate che è un segno di altissima civiltà. Sono aperte le iscrizioni per l'anno 2017 alla pubblica assistenza Procivis Protezione Civile di Gera. Le elezioni cominceranno mercoledì 1 febbraio alle 19.30 e si terranno presso la sala riunioni della Procivis. Per iscrizione e ulteriori informazioni è possibile recarsi dal 16 al 31 gennaio prossimi presso la sede operativa della Procivis in via Ossidiana al numero 23 oppure chiamando la segreteria al numero 0933 93 83 12. Si terrà domani alle 19 presso il Palazzo della Cultura principessa Roviano Pignatelli di Gela il concerto pianistico a quattro mani dei musicisti Calogero Lupo e Giuseppe Francolino. Saranno eseguite tra le altre musiche di Liz e Schumann. L'evento è inserito nella 83esima stagione concertistica gelese promossa dall'Associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra. E infine c'è l'informazione cinematografica all'antidoto di Macchitella Gela è previsto oggi alle 19.30 e alle 21.30 il film Babbo Bastardo 2. Bene, con la pagina che riguarda il cinema è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito fin qui. A tutti voi un buon fine settimana. Arrivederci. Grazie per averci seguito.